Gli aironi guardabuoi possono tornare nei campi vicini alle villette di Contrada Montenegro senza rischiare di essere impallinati dai cacciatori, nonostante peraltro siano una specie protetta. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha emesso un'ordinanza urgente di divieto di attività venatoria in tutta l'area confinante, con l'invaso del Cillarese, abitata anche in inverno da circa 300 famiglie. È stata accolta così la richiesta del comitato di residenti che avevano denunciato, come già dalle prime luci dell'alba. Gruppi di cacciatori sparano anche in prossimità delle abitazioni passando davanti ai cortili e lasciando i cani liberi, mettendo a repentaglio l'incolumità degli abitanti, degli agricoltori e dei passanti. La legge impedisce questo tipo di attività ad almeno 150 metri dalla zona abitata, dalle case di abitazione. Purtroppo diversi cacciatori passano con le armi all'interno di questa zona, ci sono stati anche presentati dei filmati. Per cui questa ordinanza è stata necessaria ai fini della salute, di tutelare l'incolumità pubblica dei cittadini e anche per una situazione di pericolosità riguardo al fatto che molto spesso la cittata delle armi è più rilevante dei 100 metri, 150 metri, per cui anche in passato ci sono stati degli episodi in cui alcuni contadini sono stati attinti da pallini. L'ordinanza è scattata dopo una serie di incontri che i rappresentanti del comitato spontaneo Sant'Elia Montenegro hanno avuto con l'amministrazione comunale. C'è stata una sinergia tra amministrazione e cittadini, ci siamo recati sul posto per un sopralluogo anche a seguito della richiesta della biologa, che ringrazio Paola Pino d'Astore, della provincia Recupero Centro Fauna Selvatica. Lì ci siamo resi conto che effettivamente la situazione è abbastanza grave e quindi ci siamo attivati subito per poter bloccare questo fenomeno di caccia quasi all'interno delle abitazioni.